Nel 380 l'imperatore Teodosio emana l'editto di Tessalonica, il primo di una serie di provvedimenti che rendono il cristianesimo l'unica religione consentita nell'impero. I cristiani dalla difesa passano all'attacco, i pagani irriducibili vengono perseguitati, subiscono la confisca dei beni o addirittura la pena di morte. Tutte le festività pagane vengono abolite, inclusi i giochi olimpici, i templi degli dèi vengono distrutti o saccheggiati. Qui a Olimpia il tempio di Zeus viene dato alle fiamme. Giochi olimpici, oracolo di Delfi, fuoco sacro delle destali, tutti e tre vengono cancellati a partire dall'editto di Tessalonica del 380, la fine del mondo antico. Nell'arco di soli tre secoli, una religione minoritaria e perseguitata diventa potente e dominante. Vuole cambiare il modo in cui l'uomo si rapporta a Dio ed è pronta a dare una nuova faccia alla terra. Ora può contare sull'appoggio di un potente imperatore. La necessità di creare spazi pubblici dedicati al nuovo culto porta nel tempo non solo a edificarne di nuovi, ma anche a sfruttare alcuni di quelli già esistenti, convertendoli ad altre funzioni. Può succedere dunque di approfittare anche di edifici civili, come sono la Curia del Senato o le Terme di Diocleziano. Uno degli edifici più importanti del Foro Romano è la Curia Iulia, prestigiosa sede del Senato, che diventa luogo di confronto tra romani e cristiani. Nel VII secolo è stata reimpiegata come chiesa e ha preso il nome di Sant'Adriano al Foro. In epoca fascista è stata totalmente ricostruita per riportarla all'aspetto che avrebbe dovuto avere ai tempi di Giulio Cesare. Ma naturalmente, anche se più raramente, possono servire allo stesso scopo anche alcuni edifici sacri, già funzionali ai culti ormai superati. È questo il caso del Pantheon. L'atto fondativo è del 608, quando l'imperatore d'Oriente, Foca, erede del demanio dell'impero d'Occidente, cede il Tempio, ormai chiuso, a Papa Bonifacio IV. È una ripetizione, in piccola scala, del dono di Costantino a Papa Silvestro. Un gesto per ribadire che Roma cristiana è la prosecuzione, senza fratture, della grande Roma imperiale. Nel corso dei secoli, la maggior parte degli edifici di pregio dell'antica Roma viene lasciata cadere in abbandono, distrutta, oppure smontata per riutilizzarne il materiale.